Temptation Island A Temptation Island ci partecipano le coppie, in crisi o sul punto di esserlo, che vogliono vivere una nuova esperienza o tentate di recuperare la storia In un villaggio improvvisamente arrivano coppie di fidanzati e fidanzate che vengono messi alla prova da tentatori e tentatrici Ragazzi e ragazze molto belli che diventato amici, o qualcosa in più, dei fidanzati, ma quanto guadagnano per farlo? Temptation Island, l'indiscrezione bomba sul loro cachet, svelate le cifre Ebbene, in questi anni sono emerse diverse indiscrezioni sui cachet di Temptation Island A quanto pare, però, ci ha pensato Alessandro Rosica, noto come investigatore social, a fare chiarezza sul cachet delle tentatrici Secondo quanto riporta Novella 200 infatti i guadagni per questi protagonisti sono uguali a quelli delle coppie, ovvero tra i 1800 euro ai 2600 euro ciascuno Ma pare che questo possa variare in base agli accordi stipulati con la produzione e dipenda quindi da alcuni avvenimenti Ma ci sarebbero altri dettagli di cui non tutti sono a conoscenza? Ecco quali Secondo l'esperto di gossip le ragazze andrebbero al reality show per pochi spiccoli, infatti il loro obiettivo è solo quello di farsi vedere, per poter poi avere serate e ospitate dopo il programma Come riporta Rosica quindi alle tentatrici interesserebbe solo la visibilità e chiaramente la possono avere solo con un ruolo di primo piano, quindi avvicinandosi ai fidanzati A loro non interesserebbe la bellezza di questi ultimi e farebbero di tutto pur di fare notizia ed essere il più visibili possibile Certo questa notizia non stupisce, infatti è chiaro che al programma in questione ci vadano solo giovani uomini e donne interessati a una visibilità nel mondo dello spettacolo Tutto è pronto anche quest'anno per la nuova edizione di Temptation Island 2023. Mancano pochi giorni al consueto appuntamento estivo del reality condotto da Filippi Di Sciglia, in onda su Canale 5 in prima serata dal 27 giugno I fan del programma non vedono l'ora di scoprire le nuove coppie e i rapporti con i tentatori e le tentatrici